Amici e amiche di Teleregione Toscana, benvenuti a questo appuntamento molto molto speciale con tre amici di Pistoia a presentare un progetto molto bello. Eccolo qua, ve lo presento, si chiama Ultimo Scalino ed è un omaggio al grande Silvano Borsi. Ora capiremo chi è, per chi non lo dovesse ancora conoscere. Intanto presento gli ospiti in studio, Anna Mugnaini, che è qua con noi, responsabile manager della Joy Entertainment. Poi abbiamo Gianfranco Biagini, responsabile artistico del CD dell'Opera, che si chiama Ultimo Scalino, nonché musicista, batterista molto molto bravo. E poi abbiamo Lino Tancredi, anche lui musicista, cantante, ma per l'occasione è il fotografo di questo fantastico CD che ora spiegheremo che cosa rappresenta, perché è una cosa molto importante, è un omaggio a un artista pistoiese che diciamo ha lasciato un segno nella musica, ma anche fra gli amici e i colleghi. Quindi io vi lascio la parola un attimo e così possiamo raccontare anche ai nostri telespettatori. Silvano è un fisiarmonicista, è stato uno dei migliori fisiarmonicisti toscani. E' nato a Pistoia e è morto un anno fa all'età di 49 anni. E da quell'episodio c'è stata la volontà di fare un memoriale dopo due giorni dalla sua morte. E' stato effettuato a pianeta Melos a Pistoia. Questo memoriale ha coinvolto tutti i musicisti pistoiesi, come di solito accade. E da lì è nata l'idea di fare proprio un omaggio fisico, un omaggio che rimanesse nel ricordo di tutti per sempre. Ultimo scalino è appunto il regalo che alcuni musicisti pistoiesi hanno voluto dedicare a Silvano. Ed è uno scrigno di emozioni straordinario. Il primo motivo è che proprio Silvano amava d'estate sedersi nell'ultimo scalino di casa sua, per cui tutte le persone che passavano di fronte a questa strada avevano un modo di vederlo frescheggiare d'estate su questo scalino. Il secondo punto, l'ultimo scalino, è l'ultimo scalino che tutti noi percorriamo, saliamo quando ce ne andiamo. E ultimo scalino è anche una sorta di attenzione a quei musicisti che troppo spesso, per motivi vari, stanno all'ombra. Quindi tre significati racchiusi in un'unica parola. Il disco è particolare perché è strutturato in modo e maniera che non sia solo il banale disco dove si fanno dei brani, omaggi, insomma, come succede. Ma che si presti attenzione ad ogni singolo strumento. E questa è una particolarità. Prima ne parlavamo, infatti, nel Fuorionda. Pensate che ogni traccia, a parte la prima che comunque è un omaggio di tanti musicisti insieme, giusto? Esatto. Però le altre tracce sono ben dieci. Diciamo che ogni traccia è un omaggio singolo a quest'artista, giusto? Ogni strumento vuole salutare. Esatto. È un disco tutto strumentale. È particolare. È una bella idea, quindi complimenti a voi che l'avete avuta. Complimenti ad Anna, giustamente, che l'ha avuta. E quindi c'è anche, giustamente, il nostro batterista che ha dato un omaggio a Silvano, così, con la batteria. Giusto? E non è facile, adesso non ha nessuno... Ebbè, non è stato facile, assolutamente. Non so se sono riuscito a fare un tributo onorevole per un musicista così bravo. Io ho cercato di rendere quello che è, come dire, il trascorrere della vita, quindi si divide in due parti, ad esempio, se vogliamo parlare tecnicamente del mio solo. Sì. Perché, in pratica, nella prima parte, io ho suonato i tamburi con le mani, significando quello che può essere il percorso della vita, lo strusciare della vita, che arriva poi alla conclusione, inaspettatamente. Dopodiché c'è una pausa, una cosa così, proprio accaduta, molto all'improvviso, e mi è venuto in mente un Silvano, proprio per tanta voglia di vivere, che comunque lui aveva, anche se era malato da tempo, per tanti motivi, e quindi mi è venuta in mente la sua rabbia. E quindi, nella batteria, ho cercato, nella seconda parte, di dare… Cambio di ritmi. No, no, totalmente, quindi di dare quello che poteva essere voce, con la mia batteria, alla sua rabbia. Tra l'altro, con Silvano avevamo in mente, veramente, di fare due, aveva tanti progetti in mente. Una che con me e con Italo, tra l'altro. Con Italo. Esatto. Salutiamo, grande contrabbassista. Contrabassista, che è presente. Che è presente nel Cid. Esatto, e di fare, con musiche sue originali, un progetto di tango, quindi, ma anche la direzione artistica, che ha preso, ad esempio, a Muso Duro, se poi… Sì, ecco, questa è la cover, diciamo, principale, che è a Muso Duro, di Pierangelo Bertoli, tutti la conoscono. Sì, però l'abbiamo riarrangiata… Rivisitata. Rivisitata, riarrangiata, tipicamente, armonicamente, dandogli, come dire, un andamento molto vicino al tango. Quindi, proprio per omaggiare lui, che era assolutamente innamorato del tango, e ovviamente anche la fisarmonica, che è il suo strumento principale. Ecco, tornando poi anche all'aspetto dei brani, sono stati quelli originali, tutti dedicati a lui, tutti fatti espressamente per lui. Quindi, ribadisco il concetto di prima, quindi i vari musicisti, con i loro strumenti, hanno proprio voluto salutarlo. E questa è una cosa molto bella e particolare, mi ha colpito molto, è originalissimo. Poi abbiamo Lino, che giustamente è un musicista, è un cantante, ma per l'occasione… Eh, ma io lo conoscivo proprio da ragazzo, eh. Da ragazzino, mi dicevi? Sì, perché nel gruppo che aveva lui a 15 anni, lui ha cominciato a 15 anni a avere già una sua orchestra, e nell'orchestra suonava mio fratello con la chitarra mia. Ecco. E poi ci siamo sempre, ci siamo sempre visti, rivisti, rivisti. Gli ultimi anni, quando lui ha cominciato a avere la malattia, io lo vedevo quasi tutti i pomeriggi, alle ore 16 avevamo l'appuntamento puntuale. L'appuntamento fisso, diciamo. Sì, qua sotto il bar, proprio sul centro di Pistola, il centro storico, al Globo, il famoso bar del Globo. Eravamo lì, sullì, e tutti i pomeriggi. E l'unico aneddoto che posso raccontarti, che mi è rimasto un po' male, è stato che col pomeriggio, alle ore 16, io l'aspettavo di un anno, perché lui era sempre prima di me. Quella volta non l'ho visto arrivare. E lì hai capito? Eh, ho avuto un po' dei dubbi. Poi dopo, parlando col barista, mi ha detto, non lo sai, è arrivata, mi hanno chiamato, perché il barista proprio era anche amico suo, e mi ha dato la notizia. E poi niente, noi i pomeriggi passavamo a parlare al passeggio che passavano, cioè il passeggio facevamo le nostre critiche. E come ne hai detto prima, nel fuori mondo era anche un tipo molto simpatico, molto, 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 molto divertente, molto, molto raccontava barzelletti, era ironico. Ci piaceranno moltissimo le donne. Ah, ma questa è una cosa strana, di solito i musicisti non sono per niente attratti. No, per niente, no, per niente, lui era strana, era... Però... Di, di, a proposito di Amuso Duro, è stato scelto quel brano? Sì. Soprattutto perché è un brano denuncia. Io ricordo che Pierangelo Bertoli iscrivise questa canzone proprio per, come sfida a tutte quelle case discografiche, e a tutto quel sistema che ruota intorno alla musica. Più al sistema. Sì, sì, sì. Il sistema in cui purtroppo vanno sempre in luce determinate persone, vuoi per i santi in paradiso, vuoi per appoggi politici. Poi i musicisti, quelli che magari hanno anche un gran talento, non emergono, non hanno la fortuna. Ce ne sono tantissimi, esatto. E l'abbiamo voluto, anche non era come questa, in cui televisivamente parlando vanno sempre in scena talent, dove si prende l'ultimo ragazzino col bel visino. Esatto, è un po' così. E quindi Amuso Duro viene riprodotta, ri-riarrangata. È sempre attuale. Pensando, sì, pensando proprio che oggi la musica deve ritornare un po' a cercare il vero talento, no? Silvano era effettivamente il vero talento. Oggi troppo spesso anche le agenzie, le più famose, vanno a cercare il bel visino, quello che giunga allo schermo. Forse non lo vanno neanche più a cercare, il problema è questo. O forse, esatto. Non ci sono più i talent scout, non esistono più, anzi è il ragazzino che va direttamente da loro. Esatto. Si è invertito la cosa e noi rimaniamo a casa, spesso e volentieri, perché magari non abbiamo neanche quella voglia, forse, neanche di mettersi così in gioco, come invece i giovani di oggi che senza esperienza, senza gavetta, si lanciano così, dopo aver fatto un paio di prove allo specchio. Ma questo, ormai siamo in questa società, però è giusto ricordare che la canzone Amuso Duro è sempre attuale. Esatto. Quindi riproponibile oggi come all'era. Un altro valore aggiunto di questo disco è che ci siamo lasciati guidare molto dal cuore. Quindi quando chi lo comprerà avrà modo di ascoltare, lo deve ascoltare con il cuore. È un disco strumentale. È un viaggio comunque. Esatto, è un viaggio. Un viaggio di emozioni e sono emozioni veramente sentite. Cioè, chi ha suonato l'ha fatto solo e esclusivamente per l'affetto esclusivo, dell'amicizia per Silvano. Quindi è un valore aggiunto anche, perché oggi si fanno molto spesso dischi. Dell'operazione commerciale. Ecco, esatto, esatto. È chiaro. Tra l'altro dopo ricorderemo anche tutti i musicisti che hanno suonato in questo CD. Poi ricorderemo anche dove si può acquistare questo disco. Anzi, lo vogliamo ricordare subito. È già su tutte le piattaforme digitali più note. Perfetto. È in vendita al negozio Tam Tam di Pistoia, l'unico negozio di rischi rimasto. Tam Tam, ricordiamo. Tam Tam, che è in via Frosini a Pistoia e sarà poi in vendita in tutti i negozi di rischi. Perfetto. E ricordiamo appunto, ultimo scalino. A proposito, a proposito, volevo chiudere con Lino perché abbiamo delle foto dentro. Le foto di questo libretto sono state fatte proprio da te che per l'occasione ti sei messo i panni del fotografo. Ma io veramente no. Ora, quelle interne sono fotografie. Sì, questa è una raccolta. Sì, qui ovviamente si vede. Io ho fatto la foto di Silvano da piccolo e questo è da quando è un pochino più cresciuto. Diciamo la foto questa, quella dietro, le foto copertine. Comunque è stata anche questa una forma di arte, no? No, io sono un fotografo, prima di essere musicista. Diciamo, è l'altra parte di te. Oltre ad essere un cantante sei anche un fotografo. Insomma, quindi immagino la tua gioia, l'emozione comunque del poter mettere... Molto, molto, molto. Poi, specialmente per lui, che lo conoscevo bene bene. E lui sapeva, ovviamente, che tu eri un fotografo. Ma poi c'erano dei progetti da fare che poi non sono stati fatti perché purtroppo, e come si parlava prima, non c'è lo spazio, non c'è spazio per quello. E io dico che purtroppo la gente deve ascoltare questo disco come, come dire, non so, scusatemi in paragona, no? Come una bella donna. Certo. Perché... O un bell'uomo, se vuoi. Un bell'uomo. E non ci sono brutte donne o brutti uomini. Per me ci sono bellissimi tutti, come la musica, come è bella la musica lirica, come è bella la musica che faceva Silvano lì, show o revival, e come è bella la musica d'arte. Per me è tutto bello. E non ci do neanche... Io per esempio sarei incontro a un festival di Sanremo. Perché? Possono vincere tutti. Per me dovrebbero vincere tutti, no? Tutti uguali. Però invece il commercio, il marketing e la mediatezza ti portano a questa cosa. vuole anche dire che tutti abbiamo il diritto di vivere e di esistere, insomma. Non ci sono musicisti o comunque generi musicali serie A e serie B. Ma che poi la selezione la faccia il pubblico. Questo è un'altra cosa, no? E noi vorremmo che la selezione la facesse il pubblico. Non il business. In pratica sarebbe più bello così, no? Oggi dovrebbe avere modo di dirlo, scusami. Sì, sì, sì. Doverebbe avere modo di esporre quello che abbiamo a dire. Credo che la musica debba essere sempre solo una questione di cuore. Questo debba essere. L'arte in generale, no? Ora potremmo aprire un vaso di Pandora e parlare, no, no, e parlare, ad esempio, perché non si vendono più dischi in Italia. No, no, no. Ora sono solamente i giovanissimi, direi i ragazzini che ascoltano musica, purtroppo. E quindi scaricano, magari anche in modo legale, ci sono dei siti apposta. Però si perde anche il valore dell'oggetto fisico, no? Il valore della musica. Esatto. E quindi, purtroppo, non so se si ritornerà un giorno ad acquistare la musica. Io so che, ad esempio, una cosa molto bella è il vinile. Sta ritornando molto in moda il vinile. Infatti, io ho stampato in vinile. Ecco. Io ho il mio ultimo LP, è tutto in vinile. È stampato in vinile perché, per fortuna, c'è un ritorno al vintage, come ne parlavamo prima per il microfono a giraffa. Certo. E quindi speriamo che un giorno ci sarà anche il ritorno all'acquisto della musica in modo fisico. Ma c'è il motivo, eh. Se io esco la domenica sera, vado al cinema, compro, mi vedo al cinema. E mi vedo un bel film. Se lo vorrei rivedere, me lo può comprare il supporto. Ma se io vado la sera a mangiarmi una pizza, o un ristorante a mangiarmi una bella Fiorentina, dopo che mi rimane? Non trovo il supporto. Credo, allora, trovandomi con un CD o un LP, che secondo me sarebbe la meglio, e mettersi lì e poi aspettare che finisci per girare l'altro lato B, è il sogno. Sai perché questa cosa non esiste più? Perché non c'è più il tempo. Noi abbiamo perso il tempo. Anche il tempo di mettere un disco, oggi come oggi non ce lo possiamo permettere. Entri in casa, abbiamo già i telefoni Wi-Fi che mettono la musica, non si sa da dove, e la senti in casa senza neanche il gesto, come hai detto te, me l'ha fatto venire in mente, di voltare il disco, è già una perdita di tempo. Noi vi diciamo invece no, trovate il tempo per la musica. Assolutamente. Lanciamo questo messaggio straordinario. Copiamo gli altri paesi che non sono occidentali. Ecco, esatto. Io sono stato in Cambogia, sono stato in Cina, sono stato in altri posti. A parte l'azione che diventa la giornata. Ancora c'è questa calma, i brasiliani. I brasiliani, ragazzi, ce l'avrei anche io la calma dei brasiliani, si sta da Dio. Comunque, torniamo per un attimo al CD, ricordiamolo, ultimo scalino, l'omaggio a Silvano Borsi, però, diciamo anche gli altri musicisti, li nominiamo. Sì, allora. Come dici te, ti passo il disco? Allora, in pratica abbiamo Daniele Mandorli, che è l'arrangiatore di Amuso Duro, e suona anche il pianoforte. In questa versione tango. In questa versione abbiamo Quirino Trovato, che è il chitarrista... Io sto leggendo i musicisti e Amuso Duro, eh? Esatto, in ordine. Quirino Trovato, che è il chitarrista, Italo Andriani al contrabbasso, poi c'è Gabriele Aitiani, sassofono tenore, Alessandro Moretti, fisarmonica, e punto io alla batteria. Poi c'è, troviamo nelle varie brani originali, Daniele Biagini, pianoforte e compositore del brano Winter, suonato insieme ad Alessandro Moretti, fisarmoniche. Poi abbiamo appunto il mio brano, che si chiama Non è possibile, quello che ho spiegato prima. C'è Ricordando a un amico, che è il brano che Quirino Trovato, chitarrista, dedicato assolutamente a Silvano. Lo stesso ha fatto col suo brano solista Daniele Mandoli e il suo Oriente Domestico. Poi abbiamo un bassista di fama, che è Daniele Nesi, che ha dedicato un brano che si chiama Anima a Silvano. Solo basso. Solo basso. Molto bello. Molto bello. Poi abbiamo Gabriele Aitiani, che è il sassofonista tenore di qui sopra, che ha dedicato a Silvano un brano che si chiama appunto Silvano Blues. Bello, si dà la musica. Il tributo vero e proprio, credo, emblematico di tutto il lavoro, lo ha fatto ovviamente il fisarmonicista, perché gli ha dedicato, secondo me, tra l'altro sono tutti belli brani, ma questo è assolutamente bellissimo, si chiama Aurewar, e lui appunto è il fisarmonicista, e autore di questo brano. Poi abbiamo il brano appunto di Silvano stesso, che ha dedicato... Ecco, questo è l'inedito. Dobbiamo arrivarci all'inedito. Questo è l'inedito, che non è mai stato pubblicato prima, ha dedicato Silvano a suo figlio Andrea, che è una toccante, direi, nina nanna, tra virgolette, dove tra l'altro finisce il brano... Si senta più rottura la voce. Sì, è bellissimo. Ne ho raccontato prima. Questo brano, che è appunto al termine di questo brano, che è dedicato al figlio, appunto mi dice... Sì, sì, è come fare un papà al suo bambino, quando è piccolino, lo mette a letto e gli dà proprio la buona notte. La buona notte. È meraviglioso. E questo immagino che anche per il figlio siamo in contatto frante, insomma. E a seguire, infatti, poi abbiamo... Questo è un bonus track che abbiamo deciso di inserire all'ultimo momento, che è una versione riarrangiata, e tra l'altro è presa diretta, presa dal vivo, con uno splendido pianista che secondo me è uno dei più... come dire, che suona con più cuore di tutti, a mio avviso, naturalmente. Ci mette la... Assolutamente. Un pianista napoletiano si chiama Eugenio Corzaro e insieme a me arriviamo a fare una serata e abbiamo fatto un brano che si chiama Smile e proprio per dire che nonostante tutto quello che è successo, tragedia, esatto, gli abbiamo dedicato questo brano per, come dire, infondere ottimismo al figlio, alla mamma, ai familiari e un po' anche a tutti noi che eravamo presi. Sì, che poi Smile è il brano famoso di Charlie Chaplin, era il brano che amava moltissimo Michael Jackson ed è sicuramente, incarna lo spirito di Silvano che comunque era malato, aveva difficoltà, era stato un po' immarginato, ma comunque era spiritoso, divertente, pieno di vita. Perché la musica di solito fa questo effetto. E quindi Smile è un'esortazione anche di fronte alla tristezza di non averlo più con noi, ma di vivere con il suo stesso entusiasmo, la sua stessa voglia di mettersi comunque sempre in gioco, anche di fronte a una grave malattia che poi ha determinato la sua scomparsa, quindi una lezione anche a livello morale. Però la musica aiuta sempre, in questi casi manca a vivere meglio nei momenti più difficili, qualsiasi sia che vuoi alla fine. Comunque voglio concludere questa piacevolissima intervista con voi che poi non è un'intervista perché alla fine siamo messi a fare una chiacchierata. Ricordiamo se ci saranno, non so, degli eventi, live, può darsi che vengano organizzati. Sono in progetto. Ora, ovviamente io due cose le devo dire. Tutto quello che verrà raccolto da questo disco verrà devoluto interamente alla famiglia Borsi perché sceglierà poi come gestire il ricavato. Devo ringraziare soprattutto alcune persone che ci hanno sostenuto in questo progetto che è durato un anno e vorrei dire personalmente, visto che io sono una persona che va a comprare dischi, che 20 euro per un disco, faccio per dire mediamente al prezzo, non sono niente. Vorrei che le persone pensassero, cioè attraversassero un po' l'avventura di tirar su un disco per rendersi conto che un disco oggi costa proprio zero in proporzione alla fatica che si fa a metterlo in campo. Volevo ringraziare appunto il Museo della Musica che ha permesso a Gianfranco Biagini di Luigi Tronci, di Luigi Tronci, che ha permesso appunto la registrazione del brano di Gianfranco Biagini. Volevo ringraziare gli strumenti musicali di Hoffman di Pistoia che sono i proprietari della Fisarmonica che vedi questa rossa, diciamo, sembra rossa, comunque tartarugata. No, è proprio rossa. È rossa tartarugata, bello. E poi ringraziare la famiglia per le foto e il brano che c'è di Silvano che ci ha concesso di editare, di mettere sul disco. Sicuramente rimarrà comunque sia al di là di tutto un bel ricordo che comunque ognuno può conservare, E questo era l'obiettivo ed è stato sicuramente raggiunto. Poi ci riaggiorneremo se ci saranno degli eventi live. Certo, ci rivederemo sicuramente. Io per ultimo voglio ringraziare veramente il cuore di questi artisti tutti. Cioè, te le regioni. E te le regioni. E te le regioni. È perché ci hanno messo veramente cuore oggi trovare un prodotto così credo che sia molto raro, non perché l'ho prodotto ma perché non c'è il cachet, non c'è il business. È un prodotto vero, diciamo così, nato proprio dal cuore. È genuino. E dalla passione per la musica. Io, te le regioni, ringraziamo voi perché ci avete fatto conoscere un grande artista che magari molti non conoscevano proprio per quello che dicevi te all'inizio. Esatto. Quindi se volete poi andare a informarvi sicuramente con internet si riesce oggi giorno si riesce a recuperare su YouTube anche delle sue apparizioni pubbliche. Chiaro. Sì, sì. Quindi io a conclusione di questa bella chiacchierata saluto Anna Mugnaini, grazie. Gianfranco Biagini e Lino Tancredi. Ciao. Ci vediamo al prossimo appuntamento. Grazie a tutti. Ciao. Da Lorenzo Miazzini. Ciao.